E proseguiamo la nostra diretta di stamattina parlando di Linea alla Scuola, il format che Mattina Live porta avanti con la Fondazione Cultura e Innovazione. Linea alla Scuola è una vera e propria testata giornalistica dove i ragazzi sono i protagonisti, sono tecnici del suono, delle luci, sono grafici, sono reporter, sono giornalisti, insomma vivono in prima persona l'esperienza dalla penna alla televisione. E oggi con me abbiamo i ragazzi dell'Istituto Glorioso di Monte Corvino Rovella, organizzatesi in redazione proprio con la sottoscritta. E dunque saluto in primis la docente Raffaella Capodanno, buongiorno, e poi Gennaro Coralluzzo, buongiorno, Michela Capodanno, buongiorno, Miriam Vassallo, ciao Miriam, Fabrizio Morretta e Emanuela Villani. Buongiorno. Buongiorno a te, dunque iniziamo proprio dalla vostra docente. Professoressa Capodanno, sono stati tre incontri molto intensi, questi ragazzi si sono approcciati ad una nuova esperienza. Che tipo di lavoro è stato svolto? Dunque, un lavoro innanzitutto diciamo che riguardava l'informazione, la capacità di scrittura, perché noi viviamo tempi particolari, sono quelli in cui la comunicazione è molto importante. Pertanto noi abbiamo accolto con immenso piacere la proposta di Canale 8 e del progetto Linea alla Scuola. Devo dire che all'interno di questo percorso di orientamento e di proposte per l'orientamento di Orientalife, questa è stata la proposta che è stata selezionata immediatamente, proprio per l'alta valenza formativa e anche per l'attualità che contiene la proposta stessa. Quindi i ragazzi si sono preparati bene. Si parla proprio di comunicazione. I ragazzi hanno affrontato direi al meglio questa esperienza, infatti qui abbiamo addirittura cinque rappresentanti di questo istituto. Parto proprio da te Gennaro, sono stati tre incontri che abbiamo ovviamente vissuto insieme. Abbiamo capito che cosa significa essere una redazione televisiva, abbiamo lavorato in gruppo, vi siete scambiati di volta in volta con tematiche differenti. Che tipo di lavoro è stato svolto? Allora praticamente abbiamo svolto tre incontri e in questi incontri, all'inizio di questi incontri, la professoressa a Canfora ci ha illustrati in linea generale cosa significhi il giornalismo. Infatti abbiamo visto come bisognava procedere, infatti nelle giornate successive abbiamo scritto una sceneggiata, come direbbero in ambito cinematografico. In questa sceneggiatura abbiamo cercato di porre delle domande ad alcuni illustri protagonisti italiani e non solo e allo stesso tempo abbiamo anche cercato di capire cosa potessero rispondere alle nostre domande. Michela, quindi che cosa ha rappresentato per te essere parte di una redazione televisiva? Allora sicuramente questa esperienza è stata un'esperienza del tutto nuova perché non ci siamo mai approcciati al mondo del giornalismo, quindi questa è stata la prima volta. Devo dire che è stata un'esperienza molto interessante e ci ha anche aiutato da un punto di vista lavorativo perché comunque abbiamo rafforzato la nostra capacità di lavorare in gruppo, anche di collaborare tra di noi. Quindi è un'esperienza molto bella. Miriam, c'è un aspetto di questa esperienza, uno su tutti che hai preferito? Innanzitutto mi è piaciuto molto l'aspetto proprio di scrivere l'intervista, quindi mi è piaciuto andare a ricercare le informazioni ma anche scrivere l'intervista, ma soprattutto è stato interessante riscoprire la figura del giornalista, quindi vedere la preparazione che c'è dietro un'intervista, quindi l'interessamento appunto verso le domande, quindi cercare di fare domande che non siano banali o scontate, ma anche ricercare informazioni, quindi avere uno sguardo critico verso le ricerche che si fanno. E quindi questo è stato molto interessante perché spesso noi da fuori non riusciamo a vedere tutto il lavoro che c'è dietro. Fabrizio, dicevamo abbiamo lavorato ovviamente in gruppi, abbiamo affrontato sempre tematiche differenti, macro aree definite, in cui voi avete scelto ovviamente la vostra sezione di riferimento. Parliamo anche un po' di temi scelti da voi. Sì, allora sicuramente abbiamo trattato vari temi, io con il mio gruppo ho trattato il tema della moda, abbiamo trattato diciamo la sfilata di Pharrell Williams con Louis Vuitton, in cui lui è direttore creativo, e appunto ci siamo anche divertiti a fare questa esperienza perché abbiamo fatto... L'intervistato chi era? L'intervistato... Chi era la persona a cui era destinata l'intervista? Eh, fare il... Era proprio lui. Sì, e quindi ci siamo anche divertiti a fare delle domande particolari, più personali. Curiosità varie ed eventuali, certo. Emanuele, invece il vostro tema? Il mio tema era la musica e ci siamo proiettate su un argomento molto attuale ad oggi, Emma Marrone, che sappiamo ha partecipato in numerosi festival, tra cui sappiamo che ha partecipato anche a Sanremo in molte occasioni. Ci siamo concentrati sia sull'aspetto musicale, ma soprattutto sappiamo che questo personaggio è stato nel corso dei secoli molto accusato, travagliato e infatti ha avuto vari tumori purtroppo e molto spesso i suoi fan non l'hanno ascoltata, ma anzi le sono andate contro anche per la storia, ad esempio con Stefano De Martino. Quindi è stato un personaggio, a mio avviso, molto molto interessante che abbiamo scoperto e questo progetto speriamo che si verifichi ancora, perché è stato qualcosa di molto costruttivo e soprattutto informativo per tutti. Quindi ti è piaciuto particolarmente? Molto. Ma vi piacerebbe un domani essere parte di una vera e propria redazione televisiva oppure lavorare nel settore giornalistico? Allora, devo dire che è stata un'esperienza formativa che ci ha insegnato molto, comunque ci ha fatto approcciare a un nuovo mondo, però sinceramente proprio il giornalismo non è la mia strada, ecco. Sai già cosa vuoi fare? Sì, vorrei fare fisica all'università. E noi te lo auguriamo, ovviamente. Gennaro? Ti piacerebbe? Mi stavo chiedendo, ma cosa le fa pensare che già non lavori in ogni caso? Potrebbe essere. In ogni caso il giornalismo è molto importante anche in giorni nostri. Infatti, come abbiamo appreso anche da queste giornate di lezioni pomeridiane, abbiamo notato che nel corso del tempo l'intelligenza artificiale sta pian piano sostituendo anche il lavoro del giornalismo. Infatti, è in grado al giorno d'oggi di replicare il parlato e l'immagine di una persona vedendo solo una sua foto. Per questo è importante anche conoscere i vari canali di informazione. Quindi non lo escludi, diciamo così. Michela, abbiamo detto per te, forse no. Miriam? Allora, io direi che il giornalismo appunto non è un'opzione che prendi in considerazione, perché ho altri obiettivi al momento lavorativi, ma anche proprio del momento riguardo alle mie passioni. Però comunque sono d'accordo con Michela, è stata un'esperienza molto formativa e anche molto interessante. In conclusione, Fabrizio? Sì, anche per me, diciamo, non mi ci vedo nell'ambito del giornalismo, però è stata sicuramente una bella esperienza. Ed Emanuela? No, purtroppo ho già altre idee, vorrei fare il medico. Allora, io vi ringrazio veramente di essere stati in nostra compagnia questa mattina. Ovviamente vi auguro il meglio e tutto quello che desiderate per la vostra bellissima carriera. Ringrazio in primis la docente Raffaella Capodanno di essere stata con noi, e i ragazzi Gennaro, Michela, Miriam, Fabrizio ed Emanuela in rappresentanza dell'Istituto Glorioso di Monte Corvino Rovella. Pubblicità tra pochissimo con Mattina Live.